il libro segreto di dante e il quadro segreto di caravaggio torna francesco fioretti il loro amore è storia la loro morte è un mistero dante ha solo 18 anni quando si innamora di beatrice ma la giovane è promessa sposa e il loro amore potrebbe diventare molto pericoloso per distoglierlo dalla sua insana passione l'amico guido cavalcanti lo convince ad accompagnarlo a bologna ma quando i due amici arrivano in città ma la testa il signore di rimini li manda a chiamare in gran segreto e mostra loro due cadaveri abbracciati nel rigor mortis sono paolo e francesca trafitti da un unico colpo di spada il malatesta esorta allora il cavalcanti in nome della sua antica amicizia con paolo a indagare nell'ambiente fiorentino chi nella città del fiore poteva desiderare la sua morte e quella di francesca saranno in grado guido e tante di sciogliere il mistero che legava paolo a firenze e che forse è causa della sua triste fine grazie a tutti grazie a tutti